Il mio intervento ha messo in evidenza come dal punto di vista di coesione e competizione che è un rapporto che giunto al secondo anno ormai comincia ad avere una maturità importante ci siano alcuni elementi che anche dal comitato scientifico sono stati sottolineati come possibilità di ulteriore valorizzazione. Dentro coesione e competizione sostanzialmente c'è una dimensione che riguarda la rappresentazione di quanto la coesione conta per le imprese e di quanto conta per i territori, questo è da connettere ancora di più rispetto al concetto di creazione di valore condiviso l'esempio classico è i cittadini fanno la raccolta differenziata, questo di per sé è un elemento di coesione, è un elemento di capitale sociale come questo poi si traduce dal punto di vista della competitività del sistema produttivo, del greening del nostro paese ovviamente nelle filiere del riciclaggio che si vengono a generare da questa raccolta differenziana ecco questo è un elemento classico, un secondo elemento importantissimo è come tutto poi si traduce in termini di competitività internazionale quindi quanto coesione e competizione diventa un driver per le imprese e per il sistema Italia su scala internazionale questo è stato un altro elemento importante che comincia a emergere chiaramente negli indicatori di coesione e competizione su cui si dovrà lavorare molto perché sappiamo benissimo che il futuro poi anche nel nostro paese è legato a quello che succederà proprio nelle dinamiche di questi paesi emergenti, della domanda dei paesi asiatici e quant'altro grazie